Oh 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 Ad Ailton, Ad Ailton, è giusto così, è giusto così, è giusto così, Martis, Bolzan, Ad Ailton, minuto 93, è giusto così, è giusto così, Ad Ailton, è la rivincita, si è giocato in 12 contro 11, è la rivincita, Martis, Bolzan, Ad Ailton, minuto 93, 1-1 all'Olimpico e Torino, 1-1 tra Juventus e Bologna, e allora c'è una giustizia nel calcio, e allora c'è, è giusto così, è giusto così, Martis, Bolzan, Ad Ailton, che soddisfazione anche per lui, bravo anche Papadopo, lo va detto, non mi era piaciuto Ad Ailton fin qui, però ha ragione lui, ha ragione lui, Meritatissimo per il gioco, per l'ennesima, eh? Avete già capito? Attenzione però, perché Ayuva adesso si lancia in avanti, le grottaglie, il colpo di testa di Britos che va a liberare, spazzare via quell'area, spazzare via quell'area, Ad Ailton ancora di testa, via la palla da lì, via la palla da lì, il colpo di testa di Camoranesi sul fondo, sul fondo, sul fondo, è finita Russo Di Nola, è finita Russo Di Nola, devi fischiare, devi fischiare Russo Di Nola, che è finita sta partita, non importa che la fai durare vent'anni, non importa che la fai durare vent'anni, Russo Di Nola, il rilancio di Viviano, il rilancio di Viviano, la palla per Ad Ailton, stratonato, punizione, eh, punizione, Russo Di Nola si è gasato, punizione per il Bologna, impossibile, punizione per il Bologna, ci fa comodo, 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 via, lenti, calmi, non succede niente, moriamo anche con la palla in mano come nel basket, no, magari in mano no, tra i piedi, lancio lungo a cercare da Ailton, fermato, finisce, 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 il Bologna porta via un punto dall'Olimpico di Torino, è un punto stra, stra, stra meritato, alla faccia di tutti, compreso Russo Di Nola, che ci aveva provato un'altra volta a mandarsi via con un po' di magone dall'Olimpico, compreso lui, un grandissimo Bologna, grandissimo Bologna, Corriaccio, cattivo fino alla fine, contro una Juventus che non è parsa irresistibile, ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate, ha sfruttato l'occasione all'ultimo minuto, e c'è più soddisfazione, e c'è più soddisfazione signori, eh cavolo se c'è soddisfazione a portar via un punto così da questo stadio maledetto.